Il Festival di Sanremo, mai così tanto piegato all'ideologia femminista e dell'LGBT, deve aver fatto perdere la testa alle femministe nostrane, che in settimana si sono prodotte in dichiarazioni, iniziative e performance una più paradossale dell'altra. Si parte con Lorella Zanardo, una delle maggiori opinion maker del femminismo italiano, sedicente attivista, scrittrice e, quel che è più grave, anche docente. In effetti gira l'Italia a tenere conferenze, insegnanti, allieve di scuole medie e superiori e sa solo il cielo cosa possa ficcare nella testa di Costoro una che sul proprio blog e sui social si lamenta dichiarando «a Sanremo le donne non c'erano». Dice «sì, si è parlato di violenza, giusto, ma dov'è la libertà delle donne? Dov'è la nostra sfida? Dov'è il nostro orgoglio, il nostro osare? Dove sono gli spazi che ci vogliamo prendere? Cosa abbiamo voglia di fare?» Domande quasi esistenziali che fingono di ignorare che l'ultimo festival è stato solo un ossessivo alternarsi più o meno esplicito di tre temi, donne, gay e immigrazione. Un festival del politicamente corretto e del pensiero unico, fatto e finito. Eppure all'orella non basta. Vuole di più, vuole di meglio, vuole tutto e lo vuole adesso. Per questo dà appuntamento all'edizione del Festival 2021, il che, nell'universo parallelo e distopico in cui vivono le femministe, pare più una minaccia che una promessa. Non poteva mancare poi nel delirio onnipotente e spocchioso del femminismo nostrano il contributo di Michela Murcia, che dalla Bignardi, sparando a zero su Salvini, dice «è il Toto Cutugno della politica italiana». Ora, non esiste angolo del globo terraqueo che non conosca almeno una canzone di Toto Cutugno. È un idolo negli USA, in Russia e in Oriente. Alcune sue canzoni a partire dall'italiano sono cantate e tradotte dall'Oceania al Canada ed è autore di una quantità industriale di canzoni di successo per altri. Murcia lo menziona come esempio di qualcosa di basso livello e si tratta di capire se è gusto per la battuta salace che però non fa ridere per niente, tipica invidia femminile o l'altrettanto tipica e insopportabile supponenza di chi ha prodotto niente, zero, nisba di significativo nella propria vita e copre la propria insipienza disprezzando il successo altrui. Alla Murcia, incarnazione del più estremo femminismo progressista, paradossalmente fa ribrezzo a tutto ciò che è popolare, specie se maschio, bianco e italiano. Per questo lei, una nana, si sente legittimata a sputare su un gigante come Cutugno. Il top sarebbe se i suoi amici delle ONG facessero sbarcare i suoi amati immigrati cantando proprio l'italiano di Cutugno. La Murcia finirebbe in un loop senza fine, tipo buco nero. E per chiudere in bellezza non può mancare Laura Boldrini. Sulla rubrica Alley Hoop del Sole 24 Ore, uno dei tanti house organ del femminismo suprematista italiano, scrivo un articolo che deve suonare come un campanello d'allarme per tutte le persone di buon senso. Parte citando esperienze di donne molestate sul lavoro. Non c'è fonte, non c'è nulla, potrebbe essere tutto inventato, ma va bene comunque, serve per introdurre il tema attraverso un meccanismo puramente emozionale. Dopodiché fa quello che fanno tutti. Cita l'Istat. In Italia, una donna su due ha subito una qualche forma di molestia fisica e un ricatto sessuale sul lavoro. Alt Boldri, fermo un attimo. L'Istat in realtà ha detto che una donna su due potrebbe aver subito quelle molestie. È una stima, cara ex presidente, una proiezione statistica frutto di un sondaggio che peraltro ha registrato anche un 18% di vittime maschili, ma si sa che di questo non ti frega nulla. In ogni caso far passare una stima statistica, cioè un'ipotesi come un dato reale, è molto disonesto. Sarebbe corretto invece capire se ha corrispondenza nella realtà. Notiziona, cara Boldri, non ce l'ha. Negli ultimi dieci anni è stata condannata per reati contro le donne una media di meno di 5.000 uomini all'anno e si tratta di reati molto gravi. Purtroppo il dato delle molestie non è disponibile, ma se segue il trend degli altri siamo su poche centinaia di condanne all'anno. Segno che le statistiche ideologicamente orientate della sezione Rosa Shocking dell'Istat sono immensamente sovrastimate. Dunque citarle significa falsificare la realtà ed è quello che fa Boldrini. A conferma poco dopo dice che l'81% delle donne molestate sul lavoro non denuncia. E come fa a saperlo se non denunciano? Qual è la fonte di quel dato? Non si sa, ma non importa. Le bugie basta affermarle con sicurezza e il gioco è fatto. E il gioco di Boldrini è far introdurre nella legislazione italiana un'altra porcata internazionale simile alla Convenzione di Istanbul, ossia una Convenzione dell'ILO contro le molestie sul lavoro. Un altro strumento di privilegio femminile è di criminalizzazione maschile. A proposito, lo sapevate che in Italia una donna che denuncia molestie sul lavoro, attenzione basta una semplice denuncia, non una condanna, diventa non licenziabile e può restare a casa tre mesi a stipendio pieno pagato dallo Stato? E lo sapete che quella norma non vale per gli uomini vittime di molestie sul lavoro e tanti saluti all'articolo 3 della Costituzione? Bene, ora lo sapete. In ogni caso la Boldrini ha depositato un disegno di legge per la ratifica di quella Convenzione ILO in Italia, da tenere sott'occhio perché è l'ennesima iniziativa balorda, liberticida e anti-maschile basata su dati inesistenti, basata su un mito. È il caso insomma di provare a convincere la Boldrini a occuparsi ancora di IVA e assorbenti femminili, dove può fare danni tutto sommato relativi. Grazie. 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 Grazie.